come funziona un gruppo frigorifero in un mio video precedente ho parlato di una pompa di calore dando quasi per scontato che tutti sapessero come funziona un gruppo frigorifero dopodiché ho ricevuto una serie di richieste dove mi veniva chiesto ma come funziona un gruppo frigorifero ebbene tutti abbiamo in casa un gruppo frigorifero il frigorifero di casa funziona sullo stesso ciclo ora non mi soffermo sul ciclo termico in particolare che potete trovare su wikipedia su qualsiasi libro di fisica ma su dei concetti fondamentali in sostanza un gruppo frigorifero non produce freddo ma asporta calore ovvero il vettore dell'energia di un gruppo frigorifero è il gas frigorigeno il tipico freon ora i freon sono gas che provocano l'effetto serra e quindi si è alla costante ricerca di nuovi gas frigorigeni che diano meno problemi ma non è di questo che voglio parlare questo gas che viene messo in circolazione da un compressore entra nell'ambiente che deve raffreddare e tramite un evaporatore ovvero uno scambiatore di calore questo gas che è liquido evapora per evaporare quindi c'è un cambiamento di stato assorbe energia quindi si riscalda si riscalda e asporta questa energia dall'ambiente abbassando nella temperatura circolando tramite le tubazioni arriva al condensatore esterno che è un altro scambiatore dove viene raffreddato e condensato ovvero ritorna liquido cedendo questa energia all'ambiente è un'esperienza che possiamo provare tutti nel frigorifero di casa dove all'interno del frigorifero dove il gas espande nell'evaporatore sentiremo il freddo perché sta asportando energia e dietro al frigorifero dove c'è quella retina quello scambiatore che è il condensatore sentiremo una temperatura calda sentiremo l'aria calda è l'energia che viene ceduta all'esterno da questo gas frigorifero il funzionamento quindi è abbastanza semplice si tratta semplicemente di un trasferimento di energia da un ambiente interno per poterlo raffreddare a un ambiente esterno interessante vero grazie 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 grazie